ciao a tutti come vi avevo promesso nell'ultimo video sulle cellule zombie che vi vado a linkare qua sotto in descrizione oggi parleremo del digiuno intermittente il digiuno intermittente è diventato una delle tendenze più seguite nel mondo della nutrizione e del benessere questa popolarità nasce dal fatto che molte persone sui social hanno riscontrato rispetto a altri metodi una più facile gestione dell'appetito perdita di peso e un conseguente miglioramento dei valori metabolici e ematici riduzione della glicemia e della pressione arteriosa negli ipertesi oggi in particolare daremo una definizione del digiuno intermittente parleremo poi anche degli schemi dei vantaggi ma rimane incollato al monitor perché parleremo in fondo anche degli svantaggi perché il digiuno intermittente non è esente da rischi e controindicazioni pronti per partire sigla promosso non solo come una strategia efficace per perdere peso ma anche come un potenziale miglioramento per la salute generale questa pratica sta attirando l'attenzione di molti ma cosa implica esattamente il digiuno intermittente e quali sono i suoi effetti a breve a lungo termine esploriamo insieme i metodi i vantaggi ma anche i possibili rischi partiamo che cos'è il digiuno intermittente non è una dieta nel senso tradizionale ma piuttosto è un modello alimentare che alterna periodi di digiuno a periodi di alimentazione a differenza delle diete convenzionali che si concentrano su cosa mangiamo il digiuno intermittente si concentra su quando mangiamo ti spiego meglio ecco gli schemi comuni di digiuno intermittente primo il metodo 16 8 probabilmente il più popolare prevede un digiuno di 16 ore e una finestra di alimentazione di 8 ad esempio puoi scegliere di mangiare tra le 12 e le 20 ogni giorno secondo tipo it stop it questo approccio implica un digiuno completo di 24 ore una o due volte a settimana durante i giorni di non digiuno si mangia normalmente terzo tipo il metodo 52 consiste nel mangiare normalmente per cinque giorni alla settimana mentre i restanti due giorni si limitano le calorie a circa 500 600 al giorno fermati un attimo se il video è di tuo interesse aiutaci e metti un bel like se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale perché per noi avere una bella community significa davvero molto ripartiamo passiamo ora ai vantaggi del digiuno intermittente innanzitutto miglioramento della sensibilità all'insulina il digiuno intermittente può aiutare a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue migliorando la sensibilità all'insulina e riducendo il rischio di diabete di tipo 2 ancora la riduzione dell'infiammazione sistemica studi hanno dimostrato che il digiuno intermittente può ridurre i marker dell'infiammazione il che potrebbe aiutare a combattere varie malattie infiammatorie e ancora benefici per la salute cardiovascolare la pratica del digiuno intermittente può portare a una riduzione del colesterolo e della pressione arteriosa particolarmente benefica per chi soffre di ipertensione ricorda bene ad oggi la scienza ha dimostrato che questi vantaggi sì ci sono ma nel breve termine veniamo ora agli svantaggi del digiuno intermittente sia per ragioni mediche sia per problemi di aderenza al metodo il digiuno intermittente non può essere considerata una pratica adatta a tutti parliamo della sostenibilità non tutti trovano facile aderire a lungo termine al digiuno intermittente la rigidità dei periodi di digiuno può essere difficile da gestire con uno stile di vita moderno fra gli svantaggi ricordiamo gli effetti collaterali alcuni possono sperimentare mal di testa irritabilità e difficoltà di concentrazione durante i periodi di digiuno oltre a potenziali rapidi aumenti di peso non appena si interrompe ci sono poi dei rischi potenziali uno studio recente in ambito cardiologico presentato da poco al congresso dell'american heart association a chicago ha indicato che un'adesione prolungata al digiuno intermittente potrebbe aumentare il rischio di morte per eventi cardiovascolari sollevando notevoli preoccupazioni sulla sua sicurezza a lungo termine sebbene questo studio presenti dei limiti nella struttura perché non ci dà indicazioni nel sul tipo di dieta seguito da pazienti cioè cosa hanno mangiato né sui meccanismi biologici che hanno determinato una minor durata della vita nel gruppo di pazienti che ha seguito a lungo il digiuno intermittente possiamo però affermare che tale studio ci offre diversi spunti per riflettere a quanto pare a oggi il digiuno intermittente se da una parte nel breve termine può dare benefici dall'altra non solo non è un elisir di lunga vita ma potrebbe addirittura rivelarsi esattamente il contrario diamo ora delle considerazioni pratiche se sei interessato a provare il digiuno intermittente è essenziale consultare un medico un nutrizionista o comunque un addetto ai lavori specialmente se hai condizioni di salute preesistenti come il diabete o problemi cardiovascolari è importante iniziare gradualmente e ascoltare il proprio corpo adattando il regime alimentare in base alle proprie esigenze e reazioni bene siamo arrivati in fondo ai dubbi o domande non esitare a farmele qua sotto nei commenti ciao e alla prossima